Sorta probabilmente su un incastellamento degli astigiani Solaro, Poerino fu assoggettato ad Asti sino al 1152, quando ad opera del Barbarossa passò sotto ai Biandrate, per poi essere assoggettato ai Savoi Acaia dal 1312. Passato alla fine del 300 ai Roero, il borgo fu cinto da fortificazioni, da un fossato e furono edificate torri difensive in un tentativo di indipendenza dai Savoia ben presto rientrato. Queste fortificazioni furono distrutte nel 1543 dal Marchese del Vasto e non ricostruite. La chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore sorge con altre fondazioni religiose nel perimetro del vecchio borgo già fortificato. Costruita in forme gotiche nel secolo XV, poi modificata, conserva interessanti opere d'arte. La facciata attuale, che imita forme barocche, è del 1911. Davanti alla parrocchiale sorge un elegante edificio religioso settecentesco, la chiesa della confraternita di San Rocco, detta anche Madonna dell'Ala, perché conserva un'immagine della Madonna ad affresco già presente presso l'Ala del Mercato. Sulla passeggiata Marconi, dopo la torre campanaria realizzata dall'architetto Feroggio nel 1777, la chiesa della confraternita di Santa Croce, sodalizio di antica fondazione che ha ricostruito più volte la propria sede. L'attuale risale alla prima metà del Settecento, con la facciata degli anni quaranta del secolo successivo. Di rilievo sono inoltre gli edifici ecclesiastici dell'Oratorio di San Sebastiano, in forme gotiche, e la Chiesa dei Dominicani, che conserva il simulacro della Madonna del Rosario, punto di riferimento essenziale della devozione cittadina. Grazie a tutti.